Ok, ok. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti voi che non è stato mai nelle nostre intenzioni l'idea di causarvi alcun disagio, ma le decisioni sono state prese sempre avendo come riferimento l'interesse primario dei nostri bambini, avendo cura che nessuno potesse mancare, dato che tanto ci sono impegnati per realizzare questo spettacolo. Ringraziamo di cuore quanti ci hanno sempre appoggiato e sostenuto nelle nostre scelte, credendo fermamente in noi e anche chi ci ha mostro qualche critica per un semplice spostamento di data, non dovuta la nostra volontà. Anche le critiche, se costruttive, ci aiutano a fare ancora e sempre meglio. In ogni caso, in ogni caso, questa sera con grande orgoglio, posso dirvi che non sarà necessario guardare il cielo, perché le nostre stelline brilleranno su questo palco rendendo questa serata indimenticabile. Grazie! 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 I nostri piccolini si sono emozionati, ma non sono delle stesse però, sono scintigliari, sono bellissimi, come siete? Siete bellissimi! Vi siete emozionati! Eh? Ciao! Eh, stamattina a scuola l'hanno fatta proprio prescita, prescita, però è chiaro, davanti a tante persone poi così piccole. Un altro applauso? Allora, qui c'è... Giù? Giulia? Tone, ma che intende? Alessia? Alessia? Susi? Melissa? Lucia? Poi chi abbiamo? Vi presentiamo tutti? Poi c'è... Noemi, poi abbiamo... lei continua a ballare? Come ti chiami tu? Come ti chiami tu? Alessandra? Alessandra? Poi c'è? Vincenzo? Vincenzo? Come ti chiami? Come ti chiami? Dai, dimmi come ti chiami? Ma me lo vuoi dire? Lo dico io? Lo dico io? come si chiama lui? Vincenzo Grisci e tu invece? Carmine Salvatore e Molò Ceder ma ecco viaggi vogliamo andare da mamma? Sì? E allora asciugiamoci le lacrime e andiamo da mamma, sì? E salutiamo la mamma Ciao mamma, anche questi momenti sono belli sono belli i corti anche questi Poi abbiamo Rosaria un applauso pure Rosaria Giovanna e Simona Bravissimi Facciamo un inchino un inchino va bene va bene lo stesso bravi che lo fa l'invito bravi usc'è andiamo! ragazzi e' bella e' bella guarda e' bella una una e' bella Grazie a tutti. 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 Andonia, voi abbiamo... Eh, sì. Eh? Eh, eh, eh. Tu? Andoni, come? Tu parli con Antonio? Eh, no, io sono la doccia, prego. Ma dove vogliamo? Ma dove vogliamo? Angelo. Poi abbiamo... Che uomo. Eh? Eh, eh. qui abbiamo... qui abbiamo... Allora, allora facciamo l'inchino prima fila? Come si fa l'inchino? Come abbiamo imparato a fare l'inchino? E dai, vediamo, Danina. Inchino. Oh, ok. Andiamo, torniamo. Andiamo, torniamo. Andiamo, torniamo. Vediamo che questi altri ballerini ci sono. Un passo avanti. Un passo avanti. Un passo avanti. E' stata Michela? Sì, Michela. Che gli hai fatto? A me dice che sei stata tu. Ma che ti ha fatto Michela? Ah? Ti ha dato...